Prima tappa per i ragazzi della SPB Under 17, in cammino verso la Polonia. Martedì sera, giocatori e staff hanno partecipato a un bellissimo incontro con Alberto Lovatto, docente e poi dirigente scolastico all'Istituto Superiore Ferrari di Borgosesia e al professionale alberghiero Pastore di Varallo, nonché autore di diversi saggi sul canto popolare con gli editori Donzelli e Neripozza. Recentemente ha scritto un libro, Un Mormorio Lontano, che è stato il focus dell'incontro di martedì. In una quarta di copertina Lovatto scrive «Con il trascorrere del tempo, la storia dei deportati rischia di diventare un mormorio lontano non più udibile e comprensibile. Questo libro cerca di ridare voce a quelle tragiche pagine della storia, raccontando la deportazione delle donne e degli uomini delle province di Biella e Vercelli, microcosmo esperienziale e territoriale nella vastità della storia dello sterminio. L'autore ricompone in un disegno unitario i tasselli di una documentazione d'archivio storiografica altrimenti dispersa e frammentata, osservandola attraverso la memoria privata e intima che emerge dalle testimonianze orali, dai diari e dei rari scambi epistolari. L'incontro di martedì sera è stato molto importante per i ragazzi della SPB, così come per tutti i genitori, insegnanti e membri dello staff Arancio Blu. Questa è stata l'occasione per entrare nel merito dei temi che verranno affrontati in Polonia, nel torneo che si svolgerà dal 29 febbraio al 3 marzo a Cracovia. Non molto distante dalla città polacca, sorge il ben noto campo di concentramento di Auschwitz. Un momento per iniziare a riflettere su quello che aspetterà la comitiva in partenza, oltre che per ricordare le regole e le linee guida da seguire durante la trasferta. Al termine dell'incontro, la presidente Giussi Cenedese e il direttore sportivo Claudio Bianchi hanno sottolineato la grande importanza che la società riserva a questo tipo di evento, ringraziando Alberto Lovatto per la presentazione del suo libro. Durante le giornate del torneo saranno inviate da Cracovia le emozioni e le impressioni dei ragazzi, che verranno anche riportate sul sito e sulle pagine social della SPB.